Una organizzazione caotica mette a rischio l'efficacia della vaccinazione, non consente di raggiungere gli obiettivi fissati dai piani vaccinali, che ricordo a tutti sono la riduzione del contagio, ma soprattutto la diminuzione della mortalità. Chiedo quindi ai nostri amministratori di aprire il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, perché a noi serve soltanto una cosa, poter esercitare con dignità la nostra professione e tutelare i pazienti, soprattutto i più fragili, che ci sono stati assegnati. Una organizzazione caotica che ha bisogno di regole, questo ciò che è emerso dal confronto avvenuto tra i medici di base durante la giornata di protesta della medicina generale Io rispetto la fila a causa del caos vaccini. La manifestazione avvenuta in modalità online è stata organizzata dalla FIMG Bari per avviare un confronto sull'andamento e le criticità organizzative della campagna vaccinale anti-covid e per individuare possibili azioni da intraprendere. La logistica che stanno affrontando i medici al momento è stata definita dal vice segretario nazionale del sindacato Nicola Calabrese non all'altezza e al limite del tollerabile, con toni sempre più violenti da parte dei pazienti che pretendono di diventare tutti fragili di avere la propria dose di vaccino. Alcuni medici sono stati anche minacciati fisicamente e costretti a chiamare le forze dell'ordine. Eppure i numeri parlano da soli. I medici di base in 15 giorni hanno somministrato 105.000 dosi ai pazienti fragili, il 30% a domicilio, pari al 10% di tutti i vaccini inoculati in Puglia. Tutto con appena 35 dosi a medico, pari ad una goccia nel mare, ha sottolineato Calabrese. I medici di famiglia hanno chiesto quindi certezza sulla regolarità della fornitura e le quantità dei vaccini, segnali certi di superamento della precarietà dell'organizzazione e nella logistica, regole certe rispetto a chi bisogna vaccinare. Non devono più verificarsi interferenze che sabotano la macchina organizzativa, hanno detto ancora dalla FIMG. Siamo stanchi di assistere ogni giorno alla comparsa di nuovi Vax Day destinati a pazienti con particolari patologie, già contattati da noi e la cui vaccinazione è stata già programmata. Così si rende inutile il nostro lavoro e in molti casi si salta la fila rispetto al criterio dell'età anagrafica, ha aggiunto Calabrese. In ultimo i medici chiedono regole certe rispetto a conviventi e caregiver per evitare confittualità con i pazienti e uno snellimento dell'apparato burocratico.